E sono a tanto, fine vita, come stabilisce la legge da quando sulla terra non c'è più posto per tutti. Io sono la sua assistente al trapasso programmato, il governo globale le invia i suoi più cari auguri. Pronto? Sono il papà di Margot, lei non la vede, le dica di passare a trovarmi questa sera. E' importante. Prossima navicella in partenza per Virgo tra due minuti. Sono stato un uomo di scienza, non un cratino, eppure mi sono lasciato ingannare da una donna. Oggettai Virgo, il pianeta del mondo. Che bellissima festa! Ma lei è un uomo? Vuole già rivedere? Il governo globale ti vuole bene.